Sì, io in qualche modo ammiro Andrea e Roberto che hanno speso del tempo per scrivere queste note risposte a questo ordine del giorno. Io non intendo perdere e far perdere tempo su questa proposta che trovo francamente, oltre che contro la legge, ridicola. Io dico semplicemente che se un giorno finirà questa ubriacatura la soddisfazione più grande sarà quella di prendere un bel frollino e tagliare alla base il palo dove sarà scritto via Berlusconi o largo Berlusconi. Questa è semplicemente quello che forse un giorno si farà quando questa situazione un giorno finalmente finirà. Grazie. Grazie al consigliere Cicare però chiedo a tutti di tenere e di avere un tono anche con le parole un po' meno pesanti. Da ultimo abbiamo sentito affermare dai banchi dell'opposizione in particolare dal consigliere Cicare che mi auspico oggi sia all'ascolto di questa di questa seduta consigliare. Cicare ha detto testualmente mi auguro che un giorno terminata la fase dell'ubriacatura qualcuno con un frollino seghi il palo che regge quella targa. Faccio notare che in molte città italiane ci sono strade intitolate a Lenin e a Stalin che di certo non brillano per meriti e per onorabilità ma questa storia non si può cancellare. Se seguissimo il suggerimento di Cicare allora potremmo noi oggi segare tutti i pali delle targhe a Lenin e Stalin. Beh noi riteniamo che questa sia una frase non solo offensiva ma che incita i cittadini all'odio e alla violenza nei confronti di coloro che la pensano in modo diverso. Tutto ciò non ci stupisce non stupisce in particolar modo il mio partito politico fratelli d'Italia che oramai da tempo è abituato a essere accusato e tacciato di razzismo di intolleranza e di violenza quando invece chi manifesta e propone azioni violente è pressoché sempre la sinistra.